Ok, per fare questo esercizio vi serviranno due dumbbell. Utilizzate sempre un peso che riuscite a gestire agevolmente. Sfragliatevi in maniera supina, quindi pancia verso il soffitto. Impugnate i dumbbell e portateli verso il petto. Allargate i gomiti all'altezza più o meno di 45 gradi rispetto a quello che è l'angolo dato dalle spalle e il busto. Da qui raggiungiamo la posizione di ponte. Una volta che il core attivo e le gambe sono ben posizionate, andiamo a portare i dumbbell verso il soffitto e ritorniamo in posizione di partenza.